Ciao ragazzi, attenzione, come potete vedere siamo tornati in studio, abbiamo lavorato sui testi quindi andiamo a rincidere determinate linee vocali Io sto aspettando Henry che deve arrivare, che fa la parte di Ale e ci vediamo tra un po', ciao ciao Attenzione chi arriva Ciao ragazzi, sono arrivato anch'io in ritardo, stavolta mi sento quasi Ale, però vabbè c'era traffico in tangenziale e stavolta so scusato Almeno sei carico? Sono carichissimo Intanto diamo una controllatina, vediamo se nel frattempo ci vengono in mente altre cose Però di base, così facendo, io ho del materiale già un po' più conclusivo su due pezzi in modo tale da poter fare il resto di lavori miei di produzione che vi propongo Lillo sarei preparato alla sua altezza, però io sono un po' più basso, quindi canterò così Dimmi quando mi senti, cioè dimmi quando ti sei messo le cuffie Inutile che glielo dico perché non se le ha ancora messe quindi non mi ha sentito ovviamente Comunque raga, cioè io sono proprio un problem solver della Madonna perché non c'era il leggio e quindi si fa così ragazzi Non ce n'è, forse la cosa migliore sarebbe saperli a memoria, però visto che li abbiamo appena cambiati Ti vedo piangere, non penso sia normale, più son felice, più cerchi di scappare Versi le cri... Vaffanculo, porca tro... Versi le cri... ... Questa roba è bomba Ci siamo, mi piace quando Lillo mi manda a fanculo perché sono troppo… come si dice? Ma sì, sei un cecchino zio cane, guarda, hai fatto precise anche di intensità, guarda che roda. Ti stavo raccontando del tuo passato da arcera. Perché? Perché sei un cecchino, make sense. In generale l'hai cantata anche molto meglio dell'altra volta, al di là dei cambiamenti, cioè il proprio più cazzo duro. Sì. Meglio, 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 meglio. Bene, bene, bene. Ok, passiamo all'altra. Ok, l'altra… non riesco? Sì. Le letture nei testi qua comunque… potevamo darla. Io a letto presto non riesco ad andarci, fumo le mie lacrime per dimenticarmi di te. Voi mi dite che dovrei smettere di lamentarmi… Ma che posso? Non è una figa. Non è una figa? Non è male. Vabbè, sono contento. Hai cantato bene. Sono contento… sicuramente rispetto all'altra volta ho provato a fare più attenzione magari di dare qualche colorino in più, se riuscivo. Tanta roba di intenzione… Eh sì, di brutto. Di interpretazione. Ma di brutto brutto proprio. L'altra volta… Vabbè ci sta, vero. Finché l'altra volta era una vita da che non le cantavo più. Si è sentito un po' forse. E poi dopo invece lamenti di un bambino che si annoia al parco, cioè della serie… Lo ributti dentro il fatto che… Anche il bambino… Stiamo comunque… Comunque stia parlando di un bambino, cioè nel senso… Ok, ok. Comunque sia parte di quello, quindi… Cioè mi… Mi piace. Ok, allora così com'è scritto. Allora per pagare i danni, comunque vada… Andremo a confessarci. Figo. Yes. Allora, registriamo. Vado! Sulla batteria e sulle percussioni, cioè sulle robe di clap eccetera… Farò dei layer che seguono perfettamente quello che ha suonato Ale eccetera eccetera… Però che… Che aggiunge qualcosa. Si, che la fa diventare un po' più stramba tra virgolette, nel senso che se volete suonare… Un pelo meno da classica batteria rock, è un pochino più moderna nel senso proprio di un po' in faccia, un po' distorta, un po' che respira un po'. Bene raga, secondo me per oggi basta. Liberi tutti. Quindi rimangono… Ne rimangono due da fare, giusto? Ero previdente di finire tardi, invece mi ero portato la cena… Che forte. E invece… Invece sei stato forte. Sei stato forte. E ce ne mangiamo… ce ne torniamo a casa magna.